Outer heaven, Metal Gear, su Playstation, Game by the Kojima. Solid Snake, con l'otto striscero, con le sigarette in culo, il laser schivero. Sniper World, Grand Royale, è il suo sim. Emory, è un otaku, anzi un otaku. Vuol dire otaku convention. E si liscia nel pandamore. Ripete che forti sfiga. Lascia stare, dottore. Shadow Moses, c'era qualcuno. Alertia, è punto esclamativo. Mi nascondo, mi metto sotto un box, fammi sentire vivo. E questo Grey Fox, parte un box, ha una co, per revolver, rozzerò la mia mano. E la mia mano. E la mia mano. E la mia mano. Furla non è ancora finita. E la mia mano. 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 E la mia mano telefonata il giorno lontano. È veramente mço. Perché Raiden non ha più paura dei meme. Adesso ha paura di Rose. Che lo tiene Caccode. Eddie Campbell durante la war mission. Lascia star nudo li fa spegnere la console. Turn the game console on right now Li avete visti Li avete visti Li avete visti Sulle rive del Lazio Li avete visti Li avete visti Li avete visti Sulle rive del Lazio Ma che trillo In Italia Solo progi e migrati Mr. Putin In both bites Kittà Calori made Molto meglio di pizza e babà I'm defecting to the Soviet Union. Johnny a quel tempo in gubbio viveva, cercava la sede dei Patriots, ma parve un tonno feroce che stomaci e dani straziava, e di mangiarlo nessuno più ardiva. Stasera zuppa dei peci, di quei pescatori Johnny ebbe pena, di un vecchio con le braghe bianche, ma un brutto incidente in auto, di colpo le rese marroni, non ha pannolone, non è Little Grey. Quando alla fine il tonno mangiò, un eccesso risultava occupato. Johnny Sgago, e le levando gli occhiali, tu un bar e pesce, sei fecale e lassativo, in quel ristorante portasti diarrea. Ha detto fumando la sigaretta fuori, c'aveva le calzioni bianche, gli Ugani perdìa la merda come le occhi. Da Mother Bay is in gran difficoltà, i Diamond Dogs sono tutti intorno a Quiet e ai suoi piedi. Hai vocal cord, Parasite, non mangia hamburger e non parla inglese o Kikongo. Doveva essere fragile, ma il Dio Kojima non ha mai richiamato Stefani Giosti. Più forte del Ceylanthropus, un weapon to surpass Metal Gear. Il nostro popolo è superato, ma il Dio Skinner 76 e le cosiddette a noi lover, i DiamondCause ci sono tutte le loro di un problema che Il Dio Wojima nonсл абorre? Isto Stop! Buongamco Grazie a tutti. Senza casco, infiamma il Vesuvio, Giacomo Merda. Antonio annegherà, mamma non rispetterà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.